Maratona a chilometro zero, il primo appuntamento delle tante iniziative legate alla celebrazione della giornata mondiale della terra. Per noi di Sport Senza Frontiere, che ci occupiamo di inclusione sociale attraverso lo sport, aiutando tanti bambini e ragazzi, questa alleanza, perché di questo si tratta con Air Day, è stata particolarmente felice. La giornata è stata splendida, la Maratona a chilometro zero, insieme a tanti eventi, una delle migliori maniere per promuovere questo tipo di valori e questo tipo di contenuti. Oggi celebriamo l'importanza di rispettare il nostro pianeta nella giornata mondiale della terra, lo facciamo parlando di ambiente, di natura, ma non solo, anche di sport e di impegno sociale, perché la sostenibilità del pianeta passa anche per la sostenibilità ovviamente sociale. Perciò come Sport Senza Frontiere siamo stati particolarmente contenti di aderire all'iniziativa ed è, penso, il primo di una lunga serie di esperienze che faremo insieme.